E' stata disposta la vigilanza privata H24 per l'intera giornata anche al distretto 66 dell'ASL di Salerno. La struttura di via Leucosia, presa di mira dai ladri l'altra notte, dove dopo aver tagliato recinzione e ringhiere hanno portato via vaccini ad uso pediatrico presumibilmente per errore pensando fossero vaccini anti-covid, è ora presidiata dalle guardie giurate per scongiurare episodi simili in un momento particolare dove potrebbe farsi strada il mercato delle dosi di vaccino illegali. I carabinieri del Comando Provinciale di Salerno della stazione di Mercatello, i militari del servizio rilievi della sezione investigazioni scientifiche della sezione radiomobile indagano sul furto e analizzando nei dettagli le immagini di videosorveglianza della vicina spiaggia dell'Associazione dei mutilati ed invalidi civili dove sono stati ripresi quattro uomini incappucciati nonché dalle impronte rilevate dagli attrezzi ritrevati sul posto, la lama di un flec su un piede di porco ed un taglierino. Dopo una prima stima il furto ammonta poche migliaia di euro ma a prescindere dal valore della mercia spostata dai frigoriferi all'interno della sede della farmacia territoriale del distretto 66 di Bialeocosia dove sono custoditi i farmaci, resta alto il campanello d'allarme per il possibile rischio del furto di vaccini, di infiltrazioni nelle catene di fornitura, dosi molto ambite in un momento di scarsità di medicinali. Da quando è iniziata la campagna vaccinale i quantitativi che giungono sul territorio sono scortati e raggiungono gli ospedali dell'intera provincia di Salerno. Il Ruggi d'Aragona di Salerno, l'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, il San Luca di Vallo della Lucania, il Luigi Curto di Polla e il Santa Maria della Speranza di Battipaglia sono presidiati 24 ore su 24 dalle guardie giurate. Questi centri ricevono e stoccano i vaccini consegnati direttamente da Pfizer che necessita della catena del freddo estrema nonché di moderne AstraZeneca che poi vengono consegnati nei centri in cui sono disponibili congelatori adeguati. I vaccini a loro volta vengono spostati negli hub specifici, negli USCA e nei luoghi di gestione delle aziende sanitarie e dei territori di competenza come nel caso di ieri del distretto 66 di Bialeocosia dove periodicamente vengono stoccati piccoli quantitativi destinati ai programmati piani vaccinali del territorio. Vaccini custoditi alla farmacia territoriale in una sala cassaforte dove ieri i ladri non hanno avuto accesso. L'obiettivo dei malviventi è quello di approfittare della forte domanda per rivendere le dosi rubate, da non trascurare comunque che si tratta di furti che potrebbero risultare inefficaci. Ogni interruzione della catena del freddo può infatti annullare completamente l'efficacia del prodotto. E mentre le guardie giurate ora vigilano nei punti dove sono stoccati i vaccini, non mancano coloro che vigilano invece dinanzi ai centri vaccinali nella speranza di cogliere l'opportunità dell'ormai nota panchina. L'imperativo resta quello di non sprecare le dosi e di avere sempre qualcuno da vaccinare. Ma se a Ruggi d'Aragona di Salerno dove viene somministrato il vaccino Pfizer non esiste una vera e propria panchina perché le dosi sono calibrate sugli accessi e destinate esclusivamente a persone fragili. Nei centri vaccinali della popolazione dove invece si sta somministrando AstraZeneca gli over 70 non mancano casi di persone che in assenza di prenotazione sono state comunque vaccinate.